Saranno oltre 50.000 cittadini toscani chiamati ad esprimere il loro parere sulla fusione dei comuni di residenza, 8 in tutto, di cui 2 nell'Aretino. Il Consiglio regionale ha infatti approvato lo svolgimento del referendum dopo il via libera degli 8 consigli comunali in questione. In provincia di Arezzo i comuni interessati sono quelli di Bibiena e Dortignano-Raggiolo. La loro fusione potrà così dar vita, in caso di esito positivo del referendum, ad un comune di circa 10.000 abitanti, guidato da un sindaco e 4 assessori, con un consiglio comunale di 16 componenti. Il Consiglio regionale adesso dovrà indicare le date del referendum che si dovrebbero ottenere ad ottobre. I primi comuni ad unirsi nel territorio provinciale Aretino furono quelli di Castelfranco di Sopre e Pian di Scò già nel 2012, scelta seguita due anni dopo anche dai cittadini dei comuni di Prato Vecchio e di Stia. E sempre in Casentino, lo scorso giugno invece aveva fatto discutere la fusione mai avvenuta tra i comuni di Subbiano e Capolona, dove il primo si era schierato contro l'unione, mentre l'altro a favore. Lo scorso giugno infine erano stati chiamati a pronunciarsi sulla proposta di accorpamento tra territori e abitanti dei comuni di Pergine Valdarno e Laterina, in quel caso aveva vinto il comune unico.